Il venerdì scorso 20 febbraio Al danno la beffa, nonostante avesse regolarmente pagato le esose bollette per l'erogazione idrica la Gori si presenta a casa sua di venerdì e stacca l'acqua conseguenza che per due giorni la famiglia malcapitata è rimasta a secco senza poter far valere le sue ragioni perché il sabato e la domenica nessuno poteva dare ascolto La vicenda del paradossale perché gli addetti che si sono presentati presso l'abitazione a Sant'Egido del Montalbino non hanno voluto sentire ragioni né prendere visione delle bollette regolarmente pagate Va detto peraltro che la vergognosa vicenda capitata va inserita nella prassi altrettanto vergognosa che vede protagonista la Gori, società napoletana di gestione delle risorse idriche del lato 3 agronocerino sarnese e zone vesuviane quella di procedere al distacco dell'erogazione di un bene comune ed indispensabile come l'acqua allorquando risultano inadempienze nel pagamento delle bollette alcuni sindaci si sono opposti fortemente a quelli che vengono ritenuti veri e propri soprusi da parte della Gori emanando apposite ordinanze comunali con le quali si fa divieto del distacco delle utenze per l'acqua potabile non ultime quelle dei sindaci di Angri, Castel San Giorgio e Fisciano nelle quali si legge che si fa divieto assoluto al distacco dei contatori idrici alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile su tutto il territorio ai nuclei familiari ai quali va assicurato in ogni caso e ad ogni individuo l'uso di almeno 50 litri pro capite giornalieri Considerato che l'acqua potabile è un bene pubblico comune di primaria necessità che non può per alcun motivo esserne vietato ed impedito l'uso da parte delle persone per il consumo umano è stato necessario intervenire da parte dei sindaci disponendo appunto il liveto assoluto all'ente gestore del servizio idrico di provvedere al distacco dei contatori e alla sospensione di acqua potabile su tutti i territori comunali interessati Venerdì scorso, 20 febbraio, scendo da casa verso le 8.30 avendo l'acqua in casa c'era giù un operario della Gori al quale chiedevo se doveva prendere l'avventura Cioè lei si era accorto che non aveva acqua in casa? No, io la mattina avevo l'acqua in casa torno all'una e mezzo mia moglie da lavoro ci accorgiamo che in casa non abbiamo l'acqua nel frattempo io tornando a casa riflesso su quella cosa che lui mi ha detto Controllo la manovra Controllo la manovra, la manovra è chiusa e c'è il tubo tagliato dell'acqua Cioè mi avevano proprio staccato l'acqua Scusi, lei è moroso? No, non sono né moroso Perché le hanno staccato l'acqua? Non sono né moroso e né abusivo Pago l'acqua regolarmente dal 2009 Comunico la lettura ogni tre mesi alla Gori L'ultima volta, mi ricordo benissimo, l'ho comunicata il 18 dicembre 2014 Con una lettura di 1060 A questo punto lei ha chiamato ed è venuto un tecnico a casa? È venuto un tecnico, un loro geometra Il quale, vedendo la situazione Lo devo dire purtroppo Ha detto chi è questo imbecille del nostro dipendente L'ha detto lui? Sì, 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 ci sono testimoni No, 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 l'ha detto lui Ha detto che ha fatto questa cosa Non lo poteva fare Doveva solo fare che cosa? Allora doveva fare una foto e comunicare Se, far controllare se io ero un abusivo Sì Essendo che di venerdì ci sono delle ibere Che l'acqua il venerdì non si può staccare Anche se uno è moroso Ma io non sono moroso È venuto la squadra Arriva la squadra con la macchina di servizio A un certo punto dice di non avere l'attrezzatura Per ripristinarmi l'acqua Siamo alla frutta Gli mancava, dico pure che gli mancava Manicotta No, l'ha chiamato un raccordo di un pollice e mezzo Per il multistrato No, eh, a termini tecnico Mi sono dovuto mettere in macchina con loro A accompagnarla in un ferramento A comprare A comprare questo raccordo Hanno ripristinato l'acqua Costava un euro e cinquanta Che cosa? Stando è che lei si è portata la caserma Dei carabinieri di Nocera Imperiore Sì, per denunciare il fatto E ho fatto regolare denuncia Alla cui Ha avuto qualche chiamata dalla Cori? A tuttora no Nessuno si è fatto vivo Nemmeno per le scuse Allora noi dobbiamo pensare Che io in casa vivo io e i miei mogli Pensando se io avevo bambini piccoli in casa Come si faceva durante la giornata O c'erano persone anziane Che avevano bisogno di acqua Persone disabili Questi la devono smettere Questi della Cori Non sono i padroni dell'acqua